Eccoci qua, eccoci qua, sì, ho cambiato un po' la sigletta, ma è già da un po'. Si vede che non sei una attenta osservatrice, sto parlando con una dei nostri ospiti, Piera Genta, buongiorno Piera, ben trovata, giornalista e in questo caso anche addetta stampa dell'Unione Italiana Cecchie Ippovedente del Piemonte, in compagnia naturalmente del Presidente Federico Borgna, buongiorno, ben trovati. Il motivo del nostro incontro non è ahimè così piacevole, no? Che succede? Tagli, ritagli e frattagli anche per quanto riguarda l'Unione Italiana Cecchie Ippovedente? Sì, purtroppo sì, oggi siamo qui anziché per presentare progetti, cose carine, che sarebbe decisamente più bello. Poi magari se abbiamo un attimo di tempo parliamo anche di cose belle, però oggi siamo qui per denunciare una situazione che è molto brutta e purtroppo non sta passando granché sui mezzi di informazione. E cioè che nella difficoltà generale che il Paese si trova ad affrontare, il primo punto su cui sono stati fatti dei tagli sono le fasce più deboli della popolazione. Basta pensare che la manovra finanziaria che è stata fatta, l'ultima, prevede 59 miliardi di euro di tagli in tre anni, 40 miliardi di questi 59 sono tagli fatti ai sussidi e ai servizi per le fasce più debili della popolazione, anziani e disabili in primis. Come si ne esce da questo tunnel? Tu hai inviato una lettera al direttore delle varie testate giornalistiche, arrivata anche a noi di Quarta Rete, una lettera firmata proprio da Federico Borgna, quando la fredda logica dei numeri calpesta la dignità dell'uomo. Ci sono tagli un po' dappertutto, quelli della cultura si lamentano dei tagli alla cultura, naturalmente i tagli nelle fasce deboli colpiscono le fasce più in difficoltà. Ce l'abbiamo una controproposta? La controproposta sì, ce l'abbiamo, innanzitutto nella forma, perché tutti i tagli sono stati concertati, bene o male, i tagli alla cultura comunque sono stati fatti sentendo le parti sociali, tutti i tagli sono stati fatti sentendo le parti sociali. Il taglio nel settore delle fasce deboli è un taglio che viene calato dall'alto con un decreto, senza sentire nessuno. Senza sentire nessuno? Senza ascoltare nessuno, sì. In questo momento, il motivo per cui ci stiamo mobilitando pesantemente adesso è perché i buoi non sono ancora scappati, perché i tagli sono stati messi a bilancio, ma dove andare a prendere i soldi nello specifico non è ancora stato indicato. È in discussione alla Commissione Finanza della Camera un disegno di legge che prevede una delega al governo per andare a individuare dove tirar fuori questi 40 miliardi. Quello che noi stiamo chiedendo noi come associazioni di disabili, le associazioni che rappresentano i disabili in Italia, stiamo chiedendo di partecipare a questo, di essere sentiti e di partecipare a questo processo. Noi sappiamo che c'è la crisi, non viviamo fuori dal mondo, sappiamo che nei momenti di difficoltà tutti si devono tirare sulle maniche, ma tutti, noi compresi, ma inclusi tutti, e quindi chiediamo di non subire questi tagli, ma di partecipare. Qualora questi tagli fossero confermati, che cosa significa per l'Associazione e l'Unione Italiana ciechi e i povedenti? Facciamo alcuni casi concreti. Cosa significa? Quali saranno i servizi che non saranno più disponibili? La cosa che tocca più direttamente le persone, per esempio per i ciechi assoluti, si parla di cancellare l'indennità di accompagnamento. L'indennità di accompagnamento è una forma di sussidio che è una delle pagine più belle che è stata scritta in Italia. Cioè lo Stato italiano ha detto, tu hai una disabilità grave, la tua disabilità ti pone delle difficoltà nell'affrontare la tua vita quotidiana. Io non ti voglio dare un vantaggio rispetto agli altri, ma mi rendo conto che la tua disabilità ti procura dei costi in più rispetto a un'altra persona. Faccio un esempio, ma è un esempio banale. Se io devo andare a farmi un corso per lavoro in un posto che non conosco, non posso andarci da solo. Io arrivo da un corso che ho fatto la settimana scorsa a Roma in un albergo, era un albergo che non conoscevo. Io, cosa stupida, il ristorante era a buffet. Io per andare a fare quel corso sono dovuto portarmi una persona a cui ho pagato il biglietto aereo e quella persona è venuta gratuitamente, ma ovviamente a spese mie. L'indennità serve... Quella spesa, quell'indennità ti verrà rimborsata. Serve per coprire... L'indennità che mi viene riconosciuta mi serve per coprire quelle spese lì. Se io devo andare in giro per lavoro, non posso guidare. Quindi non basta che io mi compri la macchina come tutti i cittadini, io devo anche pagare una persona che la macchina me la guida. E non è l'autista. Ecco. Non è esattamente l'autista. Non è il concetto... Delle auto blu, sì, il concetto è un po' diverso. È un po' diverso. Ce l'abbiamo in tutto questo magma di brutte notizie e di rischio tagli? Una buona notizia, eh? Ma certo che ce l'abbiamo e sono qua apposta per la buona notizia. E una cosa nuovissima, il gruppo intesa San Paolo ha stipulato una convenzione con l'Unione Italiana Cecchi e hanno lavorato insieme per fare che cosa? Per rendere agibili tutti i bancomat su tutto il territorio nazionale per le persone non vedenti e per le ipovedenti. Che cosa succede? Tu vai al bancomat e devi prelevare del denaro. Sei un ipovedente, quindi cosa fai? Schiacci il tasto 5 e cambia la schermata del tuo bancomat. Quindi c'è una schermata nera, ci sono delle scritte in giallo, molto visibili, con un carattere molto grande, per cui l'ipovedente riesce senza difficoltà a leggere lo schermo. Cosa succede per una persona che è completamente cieca? Hanno la possibilità, c'è un jack in cui c'è la possibilità di inserire le cuffiette, quelle che vengono utilizzate regolarmente sul telefono cellulare, e c'è una voce guida che guida la persona non vedente nel prelievo del denaro oppure nella ricarica telefonica. Questi sono i due servizi che su tutto il territorio nazionale, su tutti i bancomat del gruppo Intesa San Paolo, è possibile. E mi sembra importante perché noi, tra virgolette, normali, vedenti, non ci poniamo. Ma non è vero, perché se tu... Io non me l'avevo mai posto questo problema. Però immaginati di avere uno schermo in cui c'è la luce del sole, per cui hai delle difficoltà, quindi incominci... O di sera quando la lucetta del banco atta non funziona tanto. Se tu hai uno schermo nero con le lettere gialle, hai risolto i problemi. Direi che è un piccolo, grande passo in avanti. È un grandissimo passo in avanti. Federico, mi sembra evidente qual è la differenza tra non vedenti e ipovedenti. C'è differenza anche a livello legale? Oppure vengono considerati a livello di disabilità sullo stesso piano? No, a livello legale c'è una differenza che è sottile, però c'è. E quello che sta succedendo è che vengono tagliate le indennità di accompagnamento, che sono diverse per i cecchi assoluti e per gli ipovedenti. E vengono tagliati i servizi e questo danneggia molto più gli ipovedenti che non i cecchi assoluti. Un ipovedente ha diritto ad una pensione, a parte che le pensioni sono collegate al reddito e vengono fatte passare come dei privilegi, ma il limite di reddito per avere la pensione è 15.000 euro lordi di reddito familiare. Diciamo che per avere la pensione da ceco, da ipovedente, devi essere messo male. Devi non lavorare e devi non avere nessuno in famiglia che lavora di fatto. Comunque sia, ci sono i gruppi di ipovedenti che hanno da un ventesimo in su che non hanno neppure diritto a questa piccola pensione. E l'unica cosa a cui hanno diritto di accesso sono alcuni servizi riabilitativi e alcune quote di riserva nell'inserimento lavorativo. Io vorrei solo fare un quadro sui livelli di inserimento lavorativo nelle liste protette per i disabili. Allora, tra i disabili la percentuale di disoccupazione è 5 volte superiore alla media nazionale. Cioè, se la percentuale di disoccupati tra le persone, chiamiamole, normali è del 9%, nella disabilità è intorno al 50%. Gli enti pubblici, per non andare lontano, diciamo anche enti pubblici piemontesi, non adempiono in modo gravissimo e pesantissimo agli obblighi di assunzione delle persone con disabilità. E poi magari gli stessi enti vanno a fare le pucci alle aziende private perché non adempiono i loro obblighi. Tu viceversa hai un lavoro autonomo, conduci una vita normale, se possiamo utilizzare questo termine, vai in viaggio, vai in vacanza. Quindi la qualità della tua vita, come la possiamo definire? Come la autocertifichi la qualità della tua vita? No, la qualità della mia vita è buona. La qualità della mia vita è buona, ma com'è buona la qualità della vita di tante persone che hanno una disabilità, non solo la mia. E' certo che io ho dei gap rispetto a te, che devo colmare in qualche modo. Sul lavoro, per esempio, io lavoro per conto mio, come hai detto, sono un libero professionista, ci sono determinati passaggi del mio lavoro che io non posso fare. E quindi io, per il fatto che non vedo, devo pagarmi una segretaria. E quella segretaria lì, magari se ci vedessi, non dovrei pagarmela. E quindi io ho un gap rispetto ai miei concorrenti per il fatto che non vedo. Sono peggio le barriere architettoniche o quelle mentali? Mentali, tutta la vita. No, no, io farei firma per lasciare le barriere architettoniche e togliere quelle mentali. Perché... Fammi un esempio di barriere mentale. Innanzitutto, come si dice, cieco, ipovedente? Si dice cieco e si dice ipovedente se sei ipovedente. Le circonlocuzioni tipo non vedente. Perché c'è sempre una forma di ritegno, no? Nel trattare e in utilizzare anche certi termini. No, no. Secondo me bisogna affrontare con serenità le cose. Fammi un brutto esempio... Un brutto esempio... Di barriera mentale. Allora, così non parlo di storie di altre persone, parlo della mia. Io sono... Nella vita faccio il consulente finanziario, sono un libro professionista. Ho iniziato a fare questo lavoro 12 anni fa, quando era il boom di questa figura professionale in Italia. Quindi bastava che tu passassi l'esame per iscriverti nell'albo dei promotori finanziari che avevi decine di banche alla porta che ti cercavano per assumerti. Io ho fatto l'esame, mi sono iscritto all'albo e si è creata la coda di banche che mi cercavano. Una banca mi ha cercato, però non per prendermi come promotore finanziario, ma per assumermi come dipendente. E allora mi ha telefonato una signora gentilissima e mi ha detto guardi, noi avremmo davvero piacere di avere lei che collabora con noi, perché sappiamo che è un professionista stimato e conosciuto nella sua zona. vorremmo incontrarla per fare un colloquio. Mi ha detto, va bene, sentiamoci, vediamoci. Mi ha detto, il colloquio sarà in due parti, ci sarà una parte scritta e una parte di colloquio. Mi ha detto, va bene, non c'è nessun problema, l'unica cosa per la parte scritta, verifichi bene che dove dobbiamo scrivere ci sia una presa di corrente, perché io devo portarmi dietro uno strumento per scrivere. e questa qua è stata, si è bloccata, mi ha detto, ma come mai? Mi ha detto, ma perché ho dei problemi di vista per scrivere, utilizzo degli ausili elettronici. Gelo dall'altra parte, il gelo assoluto. E poi mi ha detto, guardi, non lo sapevo, devo parlarne con un mio responsabile. Dopo cinque minuti che mi ha lasciato in attesa, mi ha risentito e mi ha detto, guardi, abbiamo potenza, ma noi non possiamo, forse non apriamo addirittura più la filiale nella sua città. C'è qualunque scusa per giustificare il fatto della sorpresa, che hanno scoperto che tu sei non vedente, quindi non andavi più bene. Esatto. Te ne sono capitati tanti di questi casi? Ma no, qualcuno sì. Beh, all'università un professore, io ho fatto, mi sono laureato in legge, un professore mi ha detto che non era pensabile che un non vedente facesse giurisprudenza, per esempio. Alla faccia della discriminazione. Esatto. E ma questo come è successo a me? Succede a tante persone, insomma, succede nella vita di tutti di incontrare una persona un po' ignorante sul tuo cammino. Però... Allora, se la parte, diciamo, un po' più polemica, giustamente, la vispolemica ce l'ha, anche se tradotta in maniera molto simpatica, è toccata questa parte a Federico, le buone notizie toccano invece a Piera Genta. C'è un'altra convenzione? Sì, esatto. Sicuramente no, anche se purtroppo, come diceva Federico, non ci considerano molto i colleghi delle varie testate e i direttori di giornale. Questo mi fa... Beh, noi ci proviamo. Voi sempre, l'unica cosa, voi sempre. Purtroppo non è sempre così e questo mi dispiace molto. È stata firmata una convenzione qualche giorno fa con la Coldiretti e il patronato della Coldiretti per l'utilizzo del patronato della Coldiretti, i servizi del patronato anche per l'Unione Italiana Ciechi. Quindi noi facciamo tanto, ci proviamo, le comunicazioni vengono mandate e purtroppo, questo mi fa veramente dispiacere perché è da anni che lo provo sulla mia pelle, sì, lo ricevono, ma nessuno vi prende in considerazione. Gli unici che ci ospitate sempre, lo devo dire, guardarei. Ma perché siete simpatici e perché l'argomento è quanto mai importante. Federico, la battaglia continua? Assolutamente, tutti i giorni continua. No, no, bisogna fare un passaggio e bisogna farlo dal basso. Bisogna fare un passaggio di mentalità per far capire alle persone che la disabilità è uno dei fatti della vita. E non è un tabù, non porta sfiga a parlare di disabilità, bisogna che lo si sappia. Bene o male, tutti abbiamo una disabilità e chi più chi meno. E ci sono quelli che non sono ancora accorti. Esatto, il punto è che qualcuno non sono ancora accorti. Allora, io vi ricordo che nel pomeriggio c'è la replica su Quarta Rete Blu, canale 112, dalle 14.30, la replica integrale del programma, quindi ci sarà la possibilità di vedere tutti i nostri ospiti, compresi Federico Borgna, presidente dell'Unione Italiana Cechi Ippovedenti del Piemonte e Piera Genta, giornalista, tuttologa, ufficio stampa UIC Piemonte. C'è anche il sito internet www.uictorino.it con tutte le informazioni del caso per aiutare anche, non soltanto economicamente, ma anche come appoggio, come sostegno morale, l'associazione, l'Unione Italiana Cechi Ippovedenti del Piemonte. Quella è la prima pagina del sito. Grazie, a presto. È stato davvero un piacere. Pubblicità e tra un attimo placcheremo la nostra sete, la nostra fame di spiritualità. Grazie. Grazie.